Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale L'omicidio del giovane 17enne ucciso Sant'Angelo Invado uno ha confessato, l'altro era pronto a fuggire dall'Italia Furto in un bar tabacchi lungo la Flaminia a Lucrezia Documenti alla mano, il sindaco Seri smentisce il consigliere regionale Mirko Carloni e assicura di aver già presentato l'istanza per sversare i fanghi del dragaggio a largo di Ancona Ambulanza bloccata da moto e bici a Gimarra di Fanno rifatta la segnaletica lungo la pista ciclabile per evitare il parcheggio servaggio Primo giorno di allenamento per l'arma Juentus Fanno mercato ancora aperto la società cerca un trequartista e un difensore laterale Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia benvenuti a questa edizione del Tg che apriamo parlandovi dell'omicidio di Ismaele avvenuto domenica scorsa a Sant'Angelo Invado questa mattina in una conferenza stampa al comando provinciale di Pesaro dei Carabinieri conferenza stampa che vi abbiamo trasmesso in diretta questa mattina appunto gli inquirenti hanno spiegato le fasi di questo tragico e terribile delitto mentre dal carcere uno dei due albanesi ha confessato vediamo il servizio di Simona Zonghetti Stordito con un calcio alla testa legato con del nastro adesivo da pacchie colpito alla gola con un coltello sotto ad una croce di ferro è stato quasi decapitato Ismaele Lulli lo studente di 17 anni trovato morto nel boschetto vicino alla chiesetta di San Martino in Salvanera a Sant'Angelo Invado un delitto da videogame come definito dagli inquirenti che ha distrutto diverse famiglie l'intero paese dove è stato proclamato il lutto cittadino i due giovani albanesi fermati e portati nel carcere e di Villa Fastigi invece hanno responsabilità diverse l'autore materiale è Igli Meta di 20 anni e residente a Urbani e che si è avvalso della facoltà di non rispondere collaborativo con le forze dell'ordine invece il complice, 19enne Mario Mima geometra originario di Tirana che lo avrebbe aiutato forse tenendo fermo il 17enne entrambi senza precedenti penali perfettamente integrati con le loro famiglie volevano dare una lezione ad Ismaele la sua colpa? quella di vivere in un paese dove tutti conoscono tutti hanno detto i carabinieri che stanno ancora cercando l'arma del delitto e la gelosia hanno spiegato è stata la molla che ha fatto scattare la furia omicida Meta infatti era erroneamente convinto che Ismaele avesse tentato un approccio con la sua ex affidanzata Ambera la ragazza, una 19enne di origine macedone ha confermato il movente dicendo che egli la tormentava con quel sospetto Ismaele la frequentava ma era fidanzato con un'altra ragazzina del posto inutile ogni tentativo di rassicurarlo il quadro è stato delineato invece in una conferenza stampa del colonnello Antonio Sommese che ha condotto le indagini coordinate dal PM Irene Lilliu magari adesso si stanno capendo quello che hanno combinato ma al momento è come aver ucciso un personaggio di un videogioco spengo il computer e sono pulito ad Ismaele Lulli fu tesa una trappola il ragazzo incontrò i suoi carnefici alla fermata dell'autobus e accettò la proposta di andare a fare un bagno nel fiume salì spontaneamente sull'auto di Meta senza costrizioni hanno detto i militari ma quella vettura invece si diresse sul luogo del delitto dopo aver commesso l'omicidio dove si sono recati? allora dopo aver commesso l'omicidio sono andati a fare il bagno che sono i promessi il bagno al fiume un po' per lavarsi un po' per farsi vedere in giro e avere una specie di alibi e hanno portato con sé anche una scarpa del ragazzo? hanno portato con sé appunto una delle scarpe che probabilmente come ha detto la mia collega ha perso la vittima durante il trascinamento dal luogo dell'omicidio al luogo dove è stato rinvenuto il cadavere e il presunto omicida togliandosi i vestiti di sangue ha raccolto su anche questa scarpa nella fretta, nella concitazione chiaramente dove sono stati fermati i ragazzi? allora uno è stato fermato a casa sua e l'altro verso Monte Marciano mentre era diretto stava facendo una breve sosta probabilmente verso il porto di Ancona o di Pescara insomma dove c'era il primo traghetto utile per l'Albania avete trovato anche del danaro dentro la macchina? abbiamo trovato più di 500 euro in possesso di questo, di Igli probabilmente dovrebbero essere usati per la sua latitanza quando i due ragazzi sono stati trasferiti dalla caserma dei carabinieri di Sant'Angelo invado al carcere di Pesaro una folla che si era raccolta ha cercato di colpire a calcio e pugni i mezzi delle forze dell'ordine lanciato in vettive i militari sono riusciti ad evitare conseguenze peggiori dovute al dolore e all'esasperazione di quelle persone i presunti assassini ora si trovano dietro le sbarre con l'accusa pesantissima di omicidio volontario ha aggravato in concorso andate dietro non lo dico più non lo dico più un delitto premeditato? stiamo valutando questa cosa ci sono alcuni elementi che ci fanno provendere per il sì altri per il no allora senza voler essere precipitosi una volta che abbiamo la certezza dell'una o dell'altra ipotesi ci muore di conseguenza il ventenne albanese accusato in concorso potrebbe aver reso piena confessione questo pomeriggio durante un interrogatorio formale il mio assistito ha detto il suo avvocato a sole si è assunto la responsabilità e ci tiene a dire che da parte sua non c'era nessuna volontà di uccidere ha ammesso di aver attirato la vittima ma solo per dargli una lezione poi la situazione gli è sfuggita di mano a commentare gli atteggiamenti dei due albanese è stato anche il colonnello sommese io però ho visto un gran vuoto in queste persone ci guardavano come come se chissà cosa alla fine che cosa è successo niente io vi auguro che nel luogo dove si trovano abbiano il tempo di capire meditare e hanno anche l'età per poter cambiare per poter diventare delle persone diverse da quello che sono adesso lo auguro per loro e su questa tragica vicenda si è espressa anche Giorgia Meloni il presidente nazionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale chiede una pena esemplare per i due albanesi questi criminali ha detto devono marcire in galera il segretario della Lega Nord Marche Luca Paolini crede invece che ci sia un richiamo alle esecuzioni dell'ISIS c'erano 100 luoghi dove l'orrido delitto poteva essere consumato osserva ma hanno scelto di farlo sotto la croce simbolo del cristianesimo un caso? Paolini non ci crede un furto è stato messo a segno questa mattina intorno alle 9.30 al bar Tabacchi Peter Pan di Lucrezia di Cartoceto mentre i titolari stavano scaricando le stecche di sigarette da un Fiat Doblò di colore azzurro metallizzato qualche malvivente è riuscito a mettere in moto il fiorino e a scappare con la merce a bordo di un valore di circa 30.000 euro i titolari del locale vista l'assenza di telecamere funzionanti in zona chiedono aiuto alla cittadinanza diffondendo la targa del mezzo rubato CY014NX questa è la targa un 33enne di Marotta è stato trovato senza vita lunedì scorso in un appartamento di Via Torelli in pieno centro storico a Fano a lanciare l'allarme al 118 intorno alle 23 è stato un amico con il quale il 33enne poco prima era andato alla stazione ferroviaria per acquistare l'eroina poi dopo essersi recati in quella casa ad iniettarsela i due si sono sentiti male finendo in catalessi sul posto i sanitari del POTES che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Mattei e i carabinieri di Fano delle indagini di rito che stanno compiendo i militari stanno cercando di individuare il pusher torniamo a parlare del dragaggio del porto di Fano perché con documenti alla mano il sindaco Seri smentisce il consigliere regionale Mirko Carloni mi assicura di aver già presentato l'istanza per sversare i fanghi a largo di Ancona vediamo sarebbe stata sufficiente una telefonata per conoscere la situazione attuale del dragaggio del porto di Fano ma purtroppo il desiderio di scuppi in questa estate dove il caldo gioca brutti scherzi deve avere qualcosa di irresistibile mi sto scocciando ha detto il sindaco di Fano Massimo Seri che documenti alla mano smentisce la dichiarazione di Mirko Carloni il consigliere regionale di area popolare infatti ieri aveva accusato il comune di non aver ancora presentato l'istanza per sversare i fanghi a largo di Ancona sono caduto dalla sedia quando ho visto che qualcuno sosteneva che il comune di Fano ancora non aveva fatto istanza allora anche su questo sono mesi che ne parliamo io ho seguito personalmente passo dopo passo tutte le procedure concordate con la regione abbiamo studiato anche i tempi perché certe procedure se si presentano prima si rischia che magari siano incomplete abbiamo cercato di preparare il terreno onde evitare di fare scivolate su bucce di banana questa è la lettera quindi non sono chiacchiere mie i primi di luglio di presentazione di istanza ma era pronta fra l'altro da tempo ma l'abbiamo concordata insieme alla regione secondo è già convocata per il 3 agosto la conferenza di servizio allora di cosa parliamo questa non è un'amministrazione immobile come sostiene qualcuno ha detto il sindaco ma al contrario non perdiamo neppure un minuto per cercare di assicurare alla marineria fanese a tutta l'economia portuale le migliori condizioni per poter operare consapevole che il porto rappresenta una voce importante dell'economia locale che non può essere trascurata perché dà lavoro a centinaia di famiglie fanesi come mai secondo lei Carloni ieri ha fatto quelle affermazioni c'è un problema a monte ovvero nell'informazione da parte della regione ma io penso che lì ci sia stato forse un cortocircuito dopo io vede sono persona seria anche in questo qualcun altro avrebbe affondato probabilmente è mancata il filtro l'informazione hanno dato una notizia errata potevano alzare il telefono e dire sindaco ma è vero che ancora se volete bene alla città è vero che ancora non avete presentato l'istanza io gli avrei spiegato no ti stai sbagliando ti hanno dato un'informazione sbagliata io lo so ci si gioca su questa cosa si vuole sempre buttare fango su chi lavora io mi sono stufato del fango perché da un mese a questa parte da tutte le parti e so benissimo che dietro ci sono le mani nascoste dell'opposizione l'opposizione si rassegni e i conti si fanno verificando l'operato vero ieri mattina il prefetto Luigi Pizzi ha firmato con i comuni di Pesaro Fano e Gabice una convenzione per l'istituzione di un ulteriore presidio acquatico per la stagione estiva in corso grazie anche al coinvolgimento di Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto e con il contributo della BCC di Fano Pesaro e Gradara sarà messa a disposizione una moto d'acqua completa di autolettiga guidata da personale addestrato al rischio acquatico e al soccorso delle persone in mare che farà base sulla speaggia di Baia Flaminia il nuovo presidio per la sicurezza della balneazione sarà operativo dal 25 luglio al 23 agosto tutti i sabati e le domeniche nonché durante tutta la settimana di feragosto consentendo di intervenire con massima tempestività nei tratti di spiaggia libera da Gabice Mare a Fano con una moto d'acqua attrezzata con uno speciale barella per il soccorso ed il recupero in acqua rimaniamo sulla sicurezza nei posti di balneazione perché dopo le polemiche per l'ambulanza bloccata lungo la ciclabile a Gimarra a causa del parcheggio selvaggio di biciclette e motorini finalmente sono stati presi dei provvedimenti come potete vedere da queste immagini è stata rifatta la segnaletica orizzontale con due linee una bianca e una più spessa di colore giallo che delimita la pista per le due ruote come ha ricordato anche l'assessore alla mobilità urbana Stefano Marcheggiani c'è un divieto per qualsiasi mezzo di parcheggiare sulla ciclabile ed ora il 33enne fanese Michele Cicoli diventerà cittadino onorario del comune di Mondolfo Cicoli è stato insegnito dall'11 di giugno scorso del premio Alfredo di Braccio per il 2015 riservato a studiosi in fisica sotto i 35 anni questo giovane ha avuto un riconoscimento molto importante per i suoi studi in materia di ricerca scientifica tra l'altro dalle mani del Presidente della Repubblica Mattarella come miglior fisico italiano sotto i 35 anni Michele Cicoli che anche se non è un cittadino nostro perché attualmente di sede a Bologna però la cui famiglia insomma è molto legata al nostro comune sarà presente anche il sindaco di Fano Massimo Seri in quanto i genitori risiedono di Michele Cicoli risiedono a Fano e in più anche il Vice Presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi perché penso che anche la Regione insomma di fronte a queste occasioni è importante che sia presente e sta avendo un grande successo l'ultima creazione del maestro pasticcere Ceresani il sorriso di Fano sentiamo di che cosa si tratta è stato ispirato dalla fanesitudine più sfrenata Stefano Ceresani il maestro pasticcere nonché patron del caffè del pasticcere che per dare vita alle nuove proposte dolciarie oltre al suo estro creativo attinge ispirazione anche dalla sua amata città Fano e quindi oltre al carnevale e alla moretta questa è stata la volta dei bambini dispensatori di grandi sorrisi e allora perché non creare un dolce che rappresenta Fano la città dei bambini detto fatto ed è nato il sorriso di Fano questa mia creazione questo mio dolcetto che è a base di mandor che si chiama i sorrisi di Fano i sorrisi di Fano che vuol dire tutto e niente cioè i sorrisi che è bello sorridere di fronte alla gente è bello anche quando ci sono le preoccupazioni i pensieri e quando ci sono varie cose che stiamo attraversando e nei momenti difficili come questi sorridere sinceramente è una cosa che fa estremamente piacere che la pasticceria sia una forma d'arte ormai è cosa nota infatti si dice arte pasticcera altra cosa è interpretarla come sembra fare il maestro Ceresani che attraverso il suo operato è un vero porta bandiera della città di Fano nel mondo quello che mi preme sottolineare è che Stefano è un pasticcere molto attento al territorio cioè chiama la città di Fano e per cui il nuovo prodotto questo sorriso è il sorriso che rappresenta la città di bambini che rappresenta il carnevale che rappresenta quelle tipicità del nostro territorio a cui Stefano è attento a cui crede e che fanno la tipicità della nostra città è iniziata oggi ufficialmente la stagione agonistica dell'Alma Juventus Fano vediamo come è andata allo stadio Mancini questa mattina alle ore 9 si sono dati appuntamento lo staff tecnico e i giocatori dell'Alma Juventus Fano per effettuare i test atletici tutti presenti i nuovi acquisti a partire da Chiacchiarelli Buongiorno Camilloni e Bartolini fino agli ex Vigor Senigallia Cuomo e Gregorini aggregati anche alcuni validi giovani della Juniors come Gambelli Fiacco e Gian Tomasi da venerdì mattina all'Alma invece si dovrebbe trasferire ad Apecchio per il ritiro vero e proprio che verrà interrotto per la partita di Coppa Italia contro il Feralpi Salò per noi il mercato non è ancora chiuso ha detto il direttore sportivo Roberto Cannestrari stiamo cercando due under un trequartista e un difensore laterale abbiamo alcuni nomi stiamo facendo le valutazioni del caso per scegliere quelli che meglio si possono integrare in questo gruppo già ben amalgamato e per tutti gli appassionati di calcio vi ricordo che domani sera dopo il Tg Occhio alla Notizia trasmetteremo un approfondimento che riguarderà proprio questo avvio di stagione agonistica della squadra di calcio fanese bene per questa sera è tutto per le informazioni grazie per essere stati in nostra compagnia Occhio alla Notizia tornerà domani sera naturalmente puntuale se vorrete alle 20 e 30 noi saremo qui buona serata a tutti a tutti